Un buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Damiano Fedeli. In A1 in direzione Firenze ci sono 4 chilometri di coda per traffico congestionato fra Aglio e Calenzano. In direzione Bologna ci sono code a tratti fra Firenze Sud e Firenze Scandicci, coda per traffico intenso fra Firenze Scandicci e Calenzano. Sempre sulla A1 è chiuso per lavori fino al 31 agosto lo svincolo di Firenze imprunita in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. Passiamo alla A11 in direzione Pisa, un chilometro di coda per lavori fra il Bivio per il raccordo Lucca-Viareggio e Pisa Nord. In Fippilì al momento il traffico è tornato a scorrere nell'area del cantiere fra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. In quel tratto restano comunque possibili disagi e code. Per Firenze rallentamenti per lavori fra la Strassigna e Scandicci. Per Solivorno rallentamenti per lavori fra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci e rallentamenti fra Empoli, Ovest e Samminiato. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!